È caduto un pannello del controsoffitto di un'aula, non ci sono altri danni nella scuola, ora stiamo valutando e soprattutto controllando nelle altre aule, quindi faremo un controllo generalizzato su tutta la scuola. Attimi di paura, questa mattina alla scuola secondaria di primo grado Margaritone ad Arezzo dove è crollata una porzione di controsoffitto all'interno di un'aula. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo per le verifiche della struttura e i sanitari dell'emergenza urgenza. Un ragazzo è stato infatti colpito dai pezzi che sono caduti a terra e è stato portato all'ospedale San Donato in codice verde per le cure del caso. Parlando con la preside, proprio durante un cambio dell'orario c'erano dei ragazzi all'interno dell'aula che tra l'altro stavano uscendo e quindi poi dopo mi ha detto che il pannello ha preso sopra un bambino e quindi dopo sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Come sta il ragazzo? Mi hanno detto bene, gli hanno dato dei punti di sutura, però tutto a posto. L'aula è stata posta sotto sequestro e sono tuttora in corso le indagini. L'aula è chiusa, sono intervenuti i vigili del fuoco, noi già abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici della manutenzione per valutare quelli che erano anche i possibili danni che potevano arrecare appunto della situazione. Domani continueremo nei controlli anche nelle altre aule per vedere quelli che saranno magari altri problemi che potranno emergere.